Coronavirus, due nuovi contagi in Calabria, in totale sono 1.379. Cosenza, al sesto mese di gravidanza, muore in ospedale una donna di 34 anni, aperta un'inchiesta e disposta all'autopsia. Operazione della Guardia di Finanza di Roma che sequestra beni per 11 milioni di euro ad una famiglia di origine calabrese responsabile e diversi reati dagli anni Ottanta. Brucia da Calabria, sono poco meno di 120 gli incendi ieri su tutto il territorio regionale, la più colpita è la provincia di Cosenza.